Siamo nel parco dell'ossario di Solferino dove sta per essere inaugurata nel giardino di Solferino una manifestazione florovivaistica che vuole promuovere il rispetto della natura e vuol mostrare a tutto il pubblico la bellezza dei fiori. Siamo nel parco dell'ossario di Solferino. Certamente da lustro a Solferino per quelli che sono i suoi aspetti principali e più importanti, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente. La cornice del parco dell'ossario che vediamo qua intorno è ovviamente un'ottima collocazione, direi abbastanza unica nel suo genere, perché l'alto mantovano ha una serie di perle ma noi qua a Solferino, il parco dell'ossario e il parco della rocca li riteniamo davvero dei punti di rilievo importante di tutto l'ambiente. Quindi i fiori, le piante, tanti aspetti legati al verde e questi un po' come motore per una serie di altre attività che portano alla conoscenza del territorio. Secondo noi infatti questo deve essere un po' lo scopo, il tema continuo di tutte le attività, il filo conduttore di quello che sta cercando di fare il comune attraverso tanti strumenti, quello della promozione turistica, lo stesso GAL, il gruppo di azione locale del quale ricordo stamattina abbiamo inaugurato la nuova sede e il primo anno di attività, anno che ha portato ad una serie di contributi sul territorio, non ultimo quello che a Solferino consentirà al comune di restaurare la parte esterna e interna della torre civica di Piazza Castello. Quindi diciamo la cornice è quella del nostro ambiente, della nostra storia, delle nostre colline, l'obiettivo deve essere questo quadro da riuscire a dipingere, è quello di far conoscere a tutta l'Italia, a tutta l'Europa le bellezze di questa zona. Bellezze di questa zona, quindi parliamo di fiori, di piante, di botanica, ma non solo di questo, perché in questa edizione ci sono delle novità importanti per quanto riguarda gli eventi collaterali. Sì certo, tutti gli anni gli organizzatori ai quali naturalmente vanno i miei complimenti per l'impegno, ricordo che danno un supporto al di là dell'associazione del giardino di Solferino, anche la Proloco, la confraternizia del Capunsel, è quello di affiancare sempre delle iniziative che non sono legate esclusivamente al verde e ai fiori. Quindi quest'anno mi pare che abbiano sia la possibilità di visite guidate per quelle che sono diverse zone da conoscere di Solferino e sia questa sorpresa che invito a verificare e magari a provarne di Gufolandia, che è un po' così una novità e speriamo di vedere passione su questo tipo di iniziative. Quest'anno gli espositori sono da tutta Italia, ma non solo? Sì, l'attenzione, mi dicono che in particolare dalla Germania ci sia un'attenzione particolare a queste attività. Diciamo che il nord Europa e il centro Europa su Solferino concentra spesso la propria attenzione. Ricordiamo che anche il nostro Memoriale della Croce Rossa, tutta quella che è la storia della nostra battaglia e ripeto in particolare gli aspetti legati a Croce Rossa vedono spessissimo delegazioni austriache, tedesche del nord Europa visitare Solferino. Benvenga che questa volta ci siano dei tedeschi anche qua per il giardino di Solferino. Abbiamo la grandita presenza della vicepresidente della provincia di Mantua, Giovanna Martelli. Abbiamo il sindaco di Solferino, Germano Gignotti. Abbiamo il presidente della società Solferino e San Martino, dente morale e più ottica, Pausto Contrieschi. Direi ufficialmente di procedere con l'Italia del nastro. Siamo in compagnia di Giovanna Martelli, vicepresidente della provincia di Mantua. Che cosa ne pensa di questa manifestazione? È una bella manifestazione promossa da un gruppo locale a testimonianza della vivacità culturale del territorio mantovano. Ha un doppio valore anche perché comunque valorizza i luoghi storici del nostro territorio. Anche perché siamo appunto nel Parco dell'Ossario, quindi ricordiamo anche la storia e la bellezza dei fiori, quindi un connubio perfetto. Un connubio perfetto anche proprio quest'anno che ricorre il 150esimo dell'Unità d'Italia. Quindi portare qui diverse esperienze, come ad esempio la città di Bolsena con l'Infiorata, credo sia stato un connubio veramente indovinato. Quindi un plauso all'Associazione e agli organizzatori delle manifestazioni. La non edizione del Giardino di Solferino ha un grande ospite, l'Associazione Infioratori di Bolsena. E ho qui la signora Luizina che ci spiegherà come funziona questa splendida arte. Innanzitutto, da dove si parte? Dal disegno. La prima cosa importante è fare il disegno. Dopo fatto il disegno si passa a fare il contorno. Il contorno viene fatto con la torba, che si bagna con l'acqua e viene come una specie di poltiglia, che poi viene modellata a secondo del disegno che uno ha fatto. Si adagia sul disegno, premendo con le mani, in modo che uno dà la forma del disegno. Quindi sui bordi del disegno? Sui bordi del disegno. E la torba che terriccio è? È un terriccio che si compra anche dai fiorai, una terra che magari serve anche per piantare i fiori. Aggiunta con l'acqua diventa così morbida. Ma non si può fare per esempio con il terriccio di casa? Cioè ci vuole per forza questo specifico? Sì, deve essere per forza torba. La terra che abbiamo normalmente nel giardino no, non è buona. Ora facciamo un altro pezzetto e chiudiamo lì in modo che poi lo possiamo riempire con i fiori. La tecnica può essere diversa, in quanto che possiamo prendere dei fiori e tagliarli con le forbici e fare tanti pezzettini come questi qui che vedete. Oppure possiamo prendere il fiore per intero, prendere alcuni petali così, tagliarli con le mani e adagiarli direttamente sul disegno. La nostra tecnica è questa, la migliore, perché viene più alta. E anche molto elegante. Sì, infatti. Ci vuole uno studio per riuscire magari a capire la tecnica migliore di posizionamento del petalo? Quello è importante perché non basta mettere giù il petalo, ma deve essere tutti nella stessa direzione. Non deve essere uno spostato di qua, uno di là. Tutti devono essere adagiati nella stessa posizione. Poi certo deve eseguire l'andamento del disegno, nel senso se il disegno gira di qua, a destra devi girare e viceversa. Ora vi faccio vedere la differenza tra questa e magari metti giù soltanto questo qui. Sì, sono belli, però c'è una differenza enorme come vedete. La tecnica migliore è questa. La cosa importante anche è non coprire il nero. Il nero deve essere sempre libero, mai sovrapposto dal fiore, perché deve lasciare la linea proprio netta, decisa. Può essere una rosa, può essere un'ortensia, può essere un garofano. E poi prendiamo anche delle cose in campagna, che sono delle erbe secche, che utilizziamo per fare tanti lavori. Quanto è difficile fare un tappeto del genere, una meraviglia? La passione, quello che conta è la passione, perché se non c'è la passione non si può fare niente. E automaticamente, poi dopo con la collaborazione di tutti, tutto il paese, per esempio a Bolzena, tutto il paese collabora, dai bambini ai vecchi. E vengono fatte queste meravigliose composizioni in tutto il paese, addirittura a tre chilometri di infiorata. Magnifico, quindi. Quindi tutta la città, diciamo, diventa un fiore. Sì, diventa un fiore. Sì, è una cosa bellissima. Da trasmettere anche alle generazioni future. Sì, infatti si trasmette da generazione in generazione. Sì, sì. Complimenti, allora. Grazie. La in fondo c'è un tappeto che è davvero magnifico. Quanto ci avete impiegato a farlo? Dunque, noi siamo venuti la sera, abbiamo dormito, poi la mattina, verso le otto e mezza, abbiamo cominciato. E abbiamo cominciato a fare il nero. Abbiamo fatto il nero fino al pomeriggio. Al pomeriggio abbiamo cominciato a mettere giù dei fiori, anche perché con il sole che c'era abbiamo aspettato fino alla sera per non far rovinare il disegno prima del tempo. E perciò pomeriggio messi i fiori e la sera avevamo finito tutto, mancava soltanto una piccola parte. Però ecco, nel senso in una giornata, una giornata e mezza, poi certo è importante anche sapere quello che uno fa, nel senso se il disegno è molto complicato, se è più semplice, nel senso dipende da tante cose. Comunque ci vuole sempre un grande lavoro, cioè stare lì. Un grande lavoro, un grande lavoro, attenzione e anche precisione, perché le cose se sono fatte precise vengono bene, se no no. Come tutte le cose dall'altro? Come tutte le cose nella vita, sì, è vero. Quindi anche una scuola di vita, oltre che una scuola d'arte? Sì, 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 sono d'accordo. Sì, sì, sì. Presidente Fondrieschi, è un grande onore per la vostra associazione avere questa manifestazione qua, appunto. Sì, per noi è particolarmente una cosa importante, una cosa bella, una cosa significativa, anche perché, oltre che essere bella di per sé, come ne ha avuto modo di vedere, dal numero dei visitatori, dal numero degli espositori, dalla qualità degli espositori, anche perché mette in evidenza e qualifica e sottolinea l'importanza di questi nostri parchi. I parchi che circondano i monumenti, che ricordano la battaglia del 24 giugno 1859, che quest'anno hanno un particolare significato, perché qui è nata l'Italia e quest'anno, come lei sa, è il 150esimo compleanno dell'Italia, insomma. Quindi un ottimo connubio fra storia e fiore. Sì, certo, perché, vede, io sono sempre dall'idea che il visitatore dei monumenti deve essere anche allettato da un paesaggio che sia particolarmente bello, particolarmente significativo. Insomma, le due cose devono andare assieme, devono andare un po' a bracetto, in definitiva, quello che è l'aspetto culturale con quello che è l'aspetto ambientale, paesaggistico. Sicuramente si crea un connubio che è particolarmente opportuno e che direi che fa bene sia l'una cosa che l'altra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.